ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale come state vedendo dall'immagine di fondo oggi andremo a parlare dei nuovi giochi playstation che sono disponibili per il mese di maggio con il nostro plus che possiamo scaricare gratuitamente ragazzi speriamo che almeno questo mese o che comunque la sony stia mettendo un po di sentimento cominciando a pubblicare qualche gioco carino che ci possa interessare allora come primo della lista per playstation 4 abbiamo tropico 5 ragazzi un gioco da quanto ho visto dovrebbe essere carino però aspetterà noi poi la decisione poi abbiamo un gioco di auto ragazzi tabletop racing world tour sempre per ps4 speriamo che anche questo sia bello penso di scaricarlo e poi per il possesso di ps3 abbiamo bionic comando rearmad 2 per ps3 ragazzi e non so io come sarà questo gioco però poi abbiamo sempre per ps3 loco roco correcco o ps3 non so come cazzo si pronuncia perché poi abbiamo anche switch galaxy ultra per psv da e ps4 ragazzi quindi andremo ad avere tre giochi per ps4 questo mese e infine abbiamo god of war ghost off sparta per psp e psv da ragazzi per questo video è tutto un saluto da maxi al prossimo video ciao a tutti